allora come ho detto vi mettete con la mano parallela ok al corpo della cliente quindi alle spalle al forno le mani devono essere parallele non dovete avere graduazione per cui non dovete alzarvi ma dovete rimanere attaccati al corpo della cliente con la forbice ok tagliate in maniera parallela prima parte poi prendete la seconda parte ok e senza spostarvi né troppo così questo montaggio qui si può anche fare con colori diversi per esempio la parte della frangia con una decolorazione la parte centrale con un super schiarente e la parte finale con un colore così poi viene tutto miscelato o si può fare una cartina di decolorazione una cartina super schiarente una decolorazione una super schiarente e vengono due tipi di biondi quindi si può giocare in questo modo a fantasie insomma è molto veloce avete visto che c'è un big up 15 minuti e insomma può essere una soluzione per l'altro e insomma è un big up 15 minuti Grazie a tutti.